buonasera a tutti voi mi trovo nella sede fiorentina di bondadori education per un seminario che nasce all'interno del lavoro preparatorio del lavoro di riflessione del cantiere di riflessione che ha portato alla realizzazione faticosa ormai approdata approdata in porto arrivata in porto del manuale che insieme a salvatore settis abbiamo concepito scritto pensato per le scuole italiane arte una storia naturale e civile all'interno della riflessione per la costruzione di questo manuale naturalmente il problema della periodizzazione cioè qual è la cesura giusta in cui fare finire e cominciare le varie fasi della nostra storia dell'arte un problema che non è astratto che non è teorico ma che invece ha molto a che fare con l'esperienza viva dei nostri studenti che si pongono delle domande che spesso gli studiosi non dico hanno paura di farsi ma che trovano più comodo mettere da parte domande diciamo ultime domande che possono sembrare ingenue quando comincia il rinascimento quando finisce il manierismo e invece noi pensiamo a queste domande siano domande cariche di implicazioni che provare a rispondere sia una sfida importante innanzitutto per noi e che da questa riflessione possano nascere gli elementi utili anche per la didattica della storia dell'arte all'università come nelle scuole in questo caso uno dei problemi a me più cari da specialista del barocco e cioè il ruolo del barocco dell'età barocca come innesco dell'arte moderna questo è confronto fotografico pronto classico per molti versi che mette due bacchi due raffigurazioni di bacco una in pittura e una scultura separati esattamente da un secolo michelangelo e caravaggio e l'altro michelangelo michelangelo numerisi è un modo per dire che ci sono davvero due modi diversi per guardare al nostro seicento figurativo in un da un certo punto di vista si potrebbe considerare il barocco il portiere di notte del rinascimento questa espressione ironica di roberto longhi il barocco come un'epoca in cui finisce in cui approda a termine arriva a termine la grande stagione rinascimento il bacco di caravaggio come opera epigonica del bacco di michelangelo oppure invece immaginare il seicento come l'inizio di un periodo nuovo il seicento come l'inizio dell'arte moderna caravaggio il grande padre del moderno e dunque mettere a confronto il bacco di caravaggio non con il bacco di michelangelo ma con una versione moderna del bacco la barista delle folie berger di edouard manet un quadro che è costruito tenendo presente il bacco di caravaggio questa visione frontale in cui lo spettatore è invitato a entrare nell'opera in caravaggio attraverso il gesto del bacco che porge la coppa del vino e qui grazie a una grande specchiera alle spalle della barista che riflette uno spettatore maschile lo vediamo all'angolo del quadro con il cilindro con la tuba che sta dialogando con la barista la natura morte in primo piano i cristalli lo champagne al posto del vino il piano di marmo al posto del tavolaccio del bacco michelangelesco non dobbiamo scegliere fra questi due punti di vista non c'è dubbio che il barocco sia una sorta di lungo splendido pomeriggio della giornata che era iniziata col mattino del rinascimento e questa è una metafora di erwin panoschi ma è altrettanto vero che nel seicento nel barocco quello che è un barocco affonda le radici l'arte moderna d'altra parte la riscoperta del seicento la riscoperta di veraskets da parte di manet la sua famosa lettera piena di entusiasmo per i quadri di veraskets certifica come questo nesso sia un nesso storicamente accertabile la rifondazione della pittura moderna nella francia ottocentesca guarda al seicento come a un periodo fondamentale di ispirazione il piffero del reggimento di manet rifà il pablo dei valladolid di velasquez la posizione dei piedi lo sfondo neutro c'è una consapevole imitazione dell'arte barocca non solo manet ma più avanti anche lo stesso vancoghe che trova nella il grande olandese del seicento infermer nella sua tavolozza un'ispirazione fondamentale così come francis bacon vedrà in velasquez e siamo nel novecento inoltrato uno spunto che è tutt'altro che è antiquariale tutt'altro che morto ma è invece drammaticamente vivo il barocco contro ogni aspettativa un'arte moderna in tutti i sensi da questo punto di vista la libertà dell'artista è fondamentale la canestra di frutta dell'ambrosiana di caravaggio che longhi definisce un primo fondamento della psiche impressionistica e cioè l'idea che e queste sono parole di caravaggio tanta manifattura gli è a fare un quadro buono di fiori come di figure cioè che non conti il genere non conta il soggetto dell'opera ma conta la pittura conta che quando sia buono questo è davvero un inizio importante l'acquaiolo di siviglia di velasquez queste povere cose queste povere giara e terracotta parificate ai corpi è un venditore di acqua nelle strade polverose di siviglia che ha una sacralità una maestà da sacerdote francisco de surbaran questa natura morta che è stata interpretata come un allegoria della santissima trinità non so dirvi se questo sia sensato molti dubbi su questo ma è significativo che gli storici dell'arte del novecento di fronte a natura morta come questa che scaturisce dalla tradizione caravaggesca in spagna non possano non pensare a qualche significato altissimo addirittura teologico troppo bella troppo alta troppo metafisica troppo monumentale per parlare soltanto di arance di cedri di un bicchiere d'acqua in realtà il messaggio rivoluzionario era proprio questo non conta il tema non conta la funzione conta l'arte stessa ecco e da qui che viene fuori la pittura di natura morta moderna sezanne si può tracciare una linea che lega caravaggio sul barane sezanne così come si può tracciare una linea che lega la taglia di ferme attraverso i colori al per esempio al campo di grano di van gogh quando van gogh dice la tavolozza comprende l'azzurro il giallo limone il grigio perla il nero e il bianco non si chiede che cosa significhi la battaglia ma si attinge a una sorta di tavolozza storica che avverte come urgente come straordinariamente moderna e la fa propria e dunque il filo fra la pittura del seicento e quella del novecento non è meno diretto e meno importante di quello che congiunge per esempio piero della francesca e carrà o lo stesso sezanne che il rinascimento abbia un'importanza seminale nella pittura moderna è un dato molto più acclarato molto più più vicino alla nostra consapevolezza ma lo stesso si può e si deve dire della pittura del seicento lo spaisamento del della pittura del seicento una natura in cui l'uomo è sperduto come nella fuga in egitto meravigliosa di adam alzheimer una pittura che diventa protagonista una natura che diventa della pittura protagonista del quadro i due le due vedute di villa medici che si possono davvero chiamare ritratti di villa medici di velasquez di cui vediamo alcuni strepitosi dettagli e ancora l'invenzione di alcuni topoi che saranno tipici della pittura impressionistica claude lorraine l'invenzione delle albe dei tramonti sono le prime volte in cui si rappresenta il sole che si getta o sorge dalle acque dal mare una veduta che si identifica si chiama sempre pre romantica con una forzatura evidentemente storica ma che però riesce a diciamo in qualche modo a giustificare a spiegare perché possiamo considerare davvero il 600 come una radice dell'arte moderna e poi il ruolo dell'artista un ruolo scomodo spesso un artista che non sta fuori nel quadro ma che precipita dentro il quadro non ne viene più estromesso l'autoritratto terribile di caravaggio nel suo ultimo quadro in questo davide che tiene la testa di golia e caravaggio che si ritrae non nel davide vittorioso ma nel golia sconfitto e questo il lascito più terribile del 600 all'arte moderna il volto di bernini il volto di rembrandt in varie in varie mezzi l'incisione il quadro e la condizione dell'artista stesso un artista che sta nei quadri perché si autoritrae e si autoritrae senza veli alzheimer in miseria con i figli che cercano qualcosa da mangiare non lo trovano e lui disperato un artista che morirà giovanissimo è un artista in qualche modo sconfitto dalla società sentito come alieno un artista ai margini un artista marginale la leggenda della bohème dell'artista moderno anch'essa è un'eredità seicentesca e d'altra parte il disperato di courbet affiancato all'autoritratto di caravaggio permette di capire che non è certo una lettura arbitraria ma profondamente necessaria l'artista abbiamo detto nel quadro il caravaggio che inventa la maria maddalena con una fanciulla che viene finta per maria maddalena è lo studio dell'artista è un evidente ritratto dello studio stesso questo pavimento e lo studio e il pavimento dello studio di caravaggio la sedia una sedia di caravaggio parlando di questo quadro di questa modella evidente modella vestita con abiti del seicento è impossibile non parlare di caravaggio per spiegare questo quadro bisogna spiegare come è stato creato pictori in fabula l'artista è dentro il quadro anche se noi non ne vediamo il volto la sua presenza è non eliminabile un cristo deriso di bernini e un suo disegno accademico un nudo il cristo è semplicemente ottenuto colorando di rosso mettendogli una corona di spine e una canna in mano ma è un disegno d'accademia e l'episodio forse più famoso in cui l'artista e il fare artistico il fare arte diventa soggetto dell'arte stessa las meninas l'atelier di fermero il fare arte la centralità dello studio dell'artista questa idea che lo studio dell'artista sia un luogo non solo dove da frequentare ma un luogo da rappresentare implicitamente come nella maddalena o esplicitamente come in courbet siamo alla metà dell'ottocento ormai è davvero una delle eredità centrali del seicento che il seicento lascia all'arte moderna e che arriva fino a mané questo è lo studio dell'artista anche se le pareti scompaiono e le modelle nude e gli uomini vestiti si trovano en plein air ma è una trasposizione di ciò che succedeva nello studio la frutta serve a sfamare le modelle durante le pause dalla prova le da migliere da vignore il quadro fondativo del cubismo picasso nel 1907 è un quadro che ha che è collegabile direttamente a un caravaggio siamo in uno studio che si sono nude perché sono modelle si coprono con questi teli che servono anche a studiare il panneggio nelle pause indossano per scherzo le maschere africane che sono una parte dell'arredo dello studio di picasso la frutta in primo piano l'atelier dell'artista è un soggetto dell'artista e picasso studia las meninas di velasquez a rendere ancora una volta esplicito il collegamento fra arte moderna nella sua eccezione più vasta e l'arte del seicento c'è qualcosa anche di più profondo dell'arte del seicento come grande arte di denuncia diremmo di denuncia della violenza del potere della sopraffazione del potere rispetto ai corpi la decollazione del battista che caravaggio nel periodo maltese rende come una esecuzione una condanna l'esecuzione condanna a morte nel cortile di una prigione contemporanea la prigione moderna un quadro a cui si è collegata la fuciliazione e il 3 maggio del 1808 di francisco goia la denuncia delle feratezze dei francesi durante l'occupazione della spagna fino a guernica ancora una volta l'arte come una grande arte capace di denunciare che si tratti di un'arte sacra o che si tratti di un'arte storica o che si tratti di un'arte politica la vocazione più propriamente militante dell'arte moderna anche essa si può far risalire a caravaggio e questo è un montaggio che mette anche mette insieme le mani alzate della deposizione caravaggio quelle di goia quelle di picasso e una frase di un uomo del seicento che dice caravaggio che è venuto al mondo per distruggere la pittura potremmo con un po di ironia prenderlo sul serio il cubismo come ultima scomposizione figurativa ultima naturalmente nel guardando sul lungo periodo storico lunghissimo periodo storico la fase dell'arte moderna estrema che porta poi alla fine alla distruzione stessa della pittura la scomparsa quasi della pittura come arte siamo oggi che vede un suo inizio una sua radice in caravaggio abbiamo visto finora apparire anche il volto di bernini anche qualche sua opera e qui sta un po la domanda che è nel titolo di questo seminario caravaggio è e questo su questo ormai siamo tutti d'accordo una radice dell'arte moderna ma si può dire lo stesso del barocco e non dico del bernini pittore di rembrandt ma del barocco trionfante cioè cosa che fare il baldacchino di san pietro la carta di san pietro l'arte dei gesuiti dei papi la propaganda della chiesa la carta di san pietro questa sorta di grande fuoco d'artificio d'oro di bronzo di luce con la tutto quello che abbiamo visto con picasso per esempio che cosa ha a che fare l'arte pubblica di giallorenzo bernini che plasma la città di roma nel segno della chiesa trionfante le sue piazze e riplasmate anche qui al servizio di un'ideologia ecclesiastica il vecchio bernini il cavaliere con la croce ottenuta per i suoi servizi alla chiesa che cosa veramente ha a che fare con la storia dell'arte moderna proviamo a fare una verifica su un'opera particolarmente famosa di bernini l'apollo e d'afne anche coloro che hanno poco amato bernini qui vediamo bellori il grande storico dell'arte del seicento il vasario del seicento che dedica bernini silenzio terribile sostanzialmente di condanna anche bellori quando deve parlare far scrivere una sorta di piccola guida delle gallerie di roma la nota degli musei si trova a dire che la dafne che si trasforma in lauro cioè l'apollo e d'afne di villa borghese è degna di stare alla pari delle grandi statue antiche che allora erano in proprietà della famiglia borghese e che come sapete poi sono finite in gran parte a luca grazie al matrimonio o per colpa del matrimonio borghese buona parte l'apollo e d'afne anche i più feroci critici di bernini la considerano sono costretti a considerarla un indiscutibile capolavoro oggi il ministero per i beni e le attività culturali italiano usa nel suo logo chiamiamolo così la testa dell'apollo di bernini sarebbe stato impensabile fino a qualche decennio fa che tutto il patrimonio culturale italiano fosse rappresentato da un'opera del barocco ora io non so dire se sia un vero onore per bernini se ci abbia guadagnato a rappresentare il ministero per i beni culturali in questa interminabile fase di decadenza italiana ma questo non è in materia del seminario qualche dubbio lo nutro rinkelmann anche nella stagione neoclassica quella stagione in cui bernini è considerato una sorta di peste del gusto questo il frontespizio della storia della scultura di leopoldo cicognara che tratta bernini come sinonimo di corruzione bene anche anche cicognara è costretto a dire che l'apollo e d'afne è un capolavoro l'apollo d'afne è indiscutibile vorrei provare in questa conversazione a dirvi che invece anche l'apollo e d'afne capolavoro di un artista apparentemente integratissimo l'artista dei papi dei gesuiti l'artista più di successo del seicento l'anti caravaggio caravaggio artista controverso apocalittico verso su bernini artista invece integrato di successo ebbene anche nell'apollo e d'afne che nessuno mette in discussione neanche i nemici di bernini si insinua come una lama sottile il vento della sfortuna dell'attrito del conflitto anche nella sua opera più di successo bernini fu un artista in conflitto cosa che abbiamo recuperato solo di recente e che dunque le ragioni per considerare bernini vicino a caravaggio ma bisogna intendersi in che modo proverò a spiegarlo sono più di quelle che ci devono indurre a pensarle come due cose separate questo punto molto importante a proposito di periodizzazione giuliano briganti sulle orme di del suo maestro roberto longhi diceva che in fondo nel seicento si possono individuare due filoni quello dell'arte che porta all'arte moderna caravaggio rembrandt semmai borromini che porta fino all'impressionismo e poi all'arte moderna e poi invece bernini barocco pietro da cortona rubens che diceva briganti porta a solo al tronfio al più tronfio 800 un binario morto ecco io credo che se noi guardiamo da vicino qui indossando le lenti non del manuale naturalmente ma della filologia della storia della storia dell'arte come disciplina scientifica le lenti spero più agguerrite si può dimostrare che nella pollo e dafne c'è stato in qualche modo già è registrabile un seme di conflitto e che dunque bernini e caravaggio sono più vicini di quanto non sembri qui vediamo le fonti più vicine a bernini la vita scritta da baldinucci siamo nel 1682 bernini è appena morto è morto nel 1680 e qui si dice che la daphne è un miracolo dell'arte tanto che la dicesi per eccellenza la daphne del bernino senz'altro più dunque un'opera indiscutibile lo stesso bernini parlando al re sole questo è il busto di luigi xiv scolpito dallo stesso bernini quando gli deve spiegare che i suoi capelli capelli di luigi verranno molto belli nel marmo dice che se avesse visto la sua daphne il re avrebbe capito che in fondo questo lavoro non gli riusciva così male bernini non è mai molto molto modesto ma questo per dire che la daphne per bernini stesso è un capolavoro indiscutibile questo gruppo che per un brini 25 anni realizza per scipione borghese ecco se noi però guardiamo più da vicino vediamo che le due fonti principali della vita di bernini la biografia di baldinucci 1682 abbiamo detto e la biografia scritta dal figlio di bernini pubblicata nel 1713 domenico bernini cominciano a dire che qualche problema ci fu o perlomeno ci poteva essere ma perché la figura della daphne quanto più vera e più viva l'occhio casto di alcuno offender o meno offender potesse allora che da qualche morale avvertimento fosse accompagnata l'altre volte nominato cardinale maffio barbellini o però che vi fosse scolpito il seguente distico quis quis amans equitur fuggitive gaudia forme fronde manus implet bacca seo garpit amaras che cosa ci dicono che siccome questa daphne è così bella e così nuda e così pericolosa per i sensi dello spettatore naturalmente sempre un spettatore maschile non c'è dubbio sul dominio maschile maschilismo di questa nella del potere romano figuriamoci non solo un potere di antico regime ma il potere sacerdotale della curia romana per evitare problemi il cardinale maffio barberini che è una sorta di mentore del giovane bernini detta questo distico e leggi ecco che viene scolpito sulla base dell'opera dove ancora si trova chiunque segue la gioia di una forma che fugge il piacere di una forma che fugge ed è geniale definire la poledafina forma che fugge alla fine si trova che cosa in mano un mucchio un pugno di foglie e di bacche amare sono le bacche dell'alloro dunque una sorta di moralizzazione domenico bernini dice perché era una femmina nuda di sasso ma di mano del bernini un vecchio topos innamorarsi della statua pigmalione ci si può innamorare si può desiderare da ne allora per evitare problemi viene scritto questo distico allora se delle fonti così parziali così vicine a un artista così interessate a presentare la sua vita come una marcia trionfale senza nessuna battuta d'arresto dicono che ci poteva essere qualche problema e che questo distico di maffia barberini fu in qualche modo una sorta di guerra preventiva viene voglia di approfondire e viene voglia di approfondire per capire davvero cosa come andarono le cose questo è un lungo brano non vi preoccupate non lo voglio leggere tutto di della prima biografia di bernini scritta da un giovane abate francese pierre de la chambre che aveva conosciuto gian lorenzo a parigi quando gian lorenzo va in francia nel 1665 lo accompagna a roma diventano molto amici quando gian lorenzo muore scrive una biografia che è la prima che va per le stampe e che doveva addirittura accompagnare una grande storia della scultura sarebbe stata la prima storia della scultura dalla dall'antichità al presente ma che poi invece pierre de la chambre non scrive la scriverà poi appunto cicognara molto tempo dopo all'inizio dell'ottocento sotto la seduzione di un altro grande scultore italiano ma in quel caso antonio canova perché ci andiamo a recuperare questo testo perché in questo testo viene raccontata la stessa storia ma si dice che in realtà tutto questo succede non in maniera preventiva ma invece per riparare a un problema quando fece la daphne il papa urbano ottavo che allora non era che cardinale l'andò a vedere al presso bernini e il cardinale del surdis che era con sua santità disse al cardinale borghese per il quale era stata fatta che avrebbe avuto scrupolo a tenersi quest'opera nella sua casa perché la figura di una bella ragazza nuda come questa poteva smuovere coloro che la vedono sua santità replicò che con due versi si sarebbe rimediato al problema c'è un decalage storico qui maffèo barberini viene preso già diventato papa viene chiamato papa urbano ottavo ma si specifica allora non era che cardinale dunque non c'è una prevenzione ma c'è una risposta a una critica precisa e questa critica è fatta dal cardinale del surdis un cardinale francese questo è il diario di viaggio di bernini in francia torniamo un attimo indietro alla vita di chiro della chambre che invece ci presenta questo episodio in maniera ancora più aggravata urbano ottavo che non era ancora che cardinale aveva sentito dire al papa al seguito del quale era stato a vedere quest'opera che aveva dei problemi perché non si poteva tenere nella casa di un cardinale perché avrebbe suscitato uno scrupolo allora sono due versioni leggermente diverse ciascuna della quale però accende diciamo la lampadina rossa del pericolo l'apollo e daphne appena scolpita anzi addirittura mentre veniva finita da bernini riceve una sanzione riceve una disapprovazione in un caso dal papa regnante gregorio quindicesimo ludovisi nell'altro da un cardinale francese il succo è che l'apollo e daphne di bernini è stato criticato se ci si prova a chiedere quando può essere avvenuta questa visita se ci sono gli estremi per ricostruire diciamo le circostanze in cui questa visita all'atelier di bernini dovette avvenire si scopre che la permanenza a roma di questo cardinale francese francois cublo de surdis che è un cardinale non solo realmente esistito ma che fu davvero a roma negli anni 20 porta a immaginare che in quel momento fosse finita conclusa il plutone proserpina che vedete qua un'opera scolpita commissione di scipione borghese ma per essere donata al cardinale ludovisi e per essere posta a villa ludovisi qui vedete una stampa di quella villa ludovisi che non esiste più perché è stata abbattuta nell'ottocento dopo l'unità d'italia al suo posto c'è via veneto c'è l'ambasciata americana a roma il plutone proserpina si trovava qui dentro dentro il casino grande dei ludovisi ed è ma prima di essere consegnato si trovava naturalmente ancora nell'atelier di bernini ed è lì probabilmente che si recano maffeo barberini e il futuro urbano ottavo insieme al cardinale francese qui si vede perché il giovane bernini risultava pericoloso la mano di plutone che affonda nel fianco di proserpina un'altra scena di ratto un'altra scena di tentato stupro sostanzialmente è una carnalità straordinaria pericolose e qui vediamo i vari attori della vicenda scipione borghese nel busto di marmo che bernini gli dedicherà papa l'udovisi e sua nipote ludovico di l'udovisi e qua vediamo il distico scolpito alla base della pollo e daphne di bernini questo è il cardinale escublo de surdis questo cardinale francese che veniva chiamato il borromeo della francia alludendo al san carlo borromeo e anche al cardinale federico borromeo con dei promessi sposi che era stato amico di escublo de surdis era il più anziano cardinale aveva conosciuto san filippo meneri di persona era molto devoto molto zelante molto diciamo rappresentava una destra spiritualista potremmo dire all'interno del sacro collegio questo è un busto scolpito da bernini stesso e questo dimostra che il cardinale escublo de surdis non era contro bernini era però preoccupato di quello che vedete un fotogramma della pollo e daphne che fa capire perché un cardinale così zelante e non italiano si preoccupasse che in casa di un cardinale così prestigioso come scivano e borghese ci fosse un'arte così libera surdis abbiamo detto non era nemico dell'arte questo è un gruppo con un annunciazione che egli commissione a alla bottega di bernini in realtà la scolpirà pietro bernini il padre già lorenzo che era ancora attivo ma dall'idea di un amante delle arti e in fondo questo busto di cui ci permette di vedere nel volto è un busto scolpito dallo stesso già lorenzo e qui vediamo il busto di escublo de surdis insieme ad altri due busti quello di paolo quinto borghese recentemente comprato dai ghetti di los angeles quello di gregorio quindicesimo ludovisi bernini ritrattista del potere questo era un bernini che non dava nessun problema naturalmente quello è addirittura ma fa barberini un altro busto così vediamo anche lui mentre questo bernini il bernini della pollo e dafne questo sì che dava un problema morale un problema di decoro un problema di accettabilità una roma che si libera dai rigori della contro riforma e che accetta che ospita al suo interno delle manifestazioni di libertà sensuale che doveva sconcertare un testimone straniero come il cardinale de surdis in effetti il tema della lussuria in arte è un tema molto molto frequentato molto denunciato dalla letteratura artistica di questo tempo quella che vedete è un brano di una satira contro la lussuria scritta dal poeta lorenzo azzolino siamo sempre negli stessi anni gli anni venti del seicento è una satira che parla della lussuria in generale come peccato ma che a certo punto si occupa di storia dell'arte diremmo oggi di arte figurativa lo scultore il pittore agli occhi vostri si rivolge ai giovani e tentati dalla lussuria danno di lussuri ar materia enorme e questo particolare del protone proseppina insomma dice che tutto sommato non avrà tolto il buon azzolino o come al garzoncino alla fanciulla vantitillando della scivia interne mentre l'avido sguardo in loro trastulla lo sguardo dei ragazzi non al come dire alle fotografie più o meno pornografiche della rete concede oggi ma che cade sui marmi di bernini suscitando però lo stesso lo stesso effetto la vostra fragile carne e paglia e stoppia che ogni piccolo ardor che in sé ricetti bentosto avvampa e in grave incendio scoppia basta poco a dare fuoco alla paglia del desiderio sai di pigmalioni insani effetti il malione la folle la folle il folle amore che si innamora della statua or indi impara in che spietata guisa lascivo simulacro accenda i petti capisci fino a che punto le statue hanno potere il potere delle immagini abbiamo cercato il nostro manuale di sottolineare spesso che quelle che per noi sono opere d'arte più o meno morte più o meno da museo sono state e spero siano ancora per certi versi delle opere pericolose perché vive perché capace di suscitare emozioni desiderio addirittura è un vecchio topos che affonda le sue radici nell'età classica l'apollo e daphne è una statua pericolosa in qualche modo e questo si continuerà a notarlo per molto tempo jean de la bruire l'autore dei caratteri grande autore del seicento francese dice che le impudicizie degli dei la venere il ganimè delle altre inudità del carracci siano state fatte per dei principi della chiesa sedicenti successori degli apostoli francese in odore di jansenismo che c'era quella curia romana lo prova il palazzo farnese l'obiettivo di questa critica è la pittura di annibale carracci che era stato il vero maestro di bernini che cerca di fare nel marmo esattamente ciò che annibale ha fatto nella pittura questo è un saggio della galleria farmese in cui si vede la mano di giove che affonda nella coscia una volta tanto di sua moglie cioè di giunone una pittura carica di erotismo ma questa cosa alla bruire non piaceva per nulla il problema non era la qualità dell'arte le cose belle e non c'è dubbio che questo sia un bello affresco lo sono meno se sono fuori posto che è l'enunciazione classica del decoro bisogna tenere le cose al loro posto la perfezione dipende dalla convenienza e le convenienze dalla ragione tal che è inconcepibile una giga in cappella una danza in un luogo sacro e un'enfasi teatrale in una predica invece sappiamo che nel barocco le prediche erano davvero dei pezzi teatrali non si vedono immagini profane nei templi un cristo per esempio il giudizio di pari in uno stesso santuario né si confanno a persone consecrate alla chiesa la pompa è seguito di un cavaliere in questo francese la pensava proprio come il cardinale del surdissimo connazionale e bernini la pensava come a dibale carracci il l'ermafrodito di bernini è un po il manifesto di tutto questo questo è il restauro di una scultura antica di un ermafrodito metà uomo e metà donna che viene scoperto ironia della sorte da dei buoni frati carmelitani mentre scavano le fondamenta di quella che diventerà la chiesa di santa maria della vittoria per cui bernini più tardi scoprirà 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 scusate la santa teresa si affrettano a disfarsi di questa statua la sciva se la compra chi il cardinale borghese il committente della pollo e dafne e fa fare a già lorenzo bernini questo strepitoso materasso su cui l'ermafrodito viene adagiato ma quest'opera era nascosta in un cassone di legno dorato e la si poteva vedere soltanto quando il cardinale borghese sapeva di non avere in casa visitatori scrupolosi proprio come il cardinale francese ma naturalmente la pollo e dafne era un po difficile chiuderlo in un cassone qui vedete lo stemma dei borghese come era figurato nel frontespizio nel frontone della facciata di san pietro né niente meno e lo stesso drago dello stemma borghese che in cui bernini finge di ricavare una pergamena in pelle di drago e in cui viene scritto il distico di maffeo barberini e dunque si può contemporaneamente avere le chiavi di san pietro in famiglia e poi fare scolpire a bernini un questo manifesto della della lussuria per capire fino in fondo il la temperatura di questo dibattito è importante leggersi altre voci io credo che la storia dell'arte avanzi soprattutto quando viene praticata come un pezzo di una storia della cultura più vasta in cui la capacità di resuscitare i testi scritti e di accostarli alle immagini sia la vero la chiave per capire di più questa è una satira di fulvio testi grande poeta emiliano contro la corte di roma un testo così accuminato così dirigente così sul furio che rimarrà inedito molto a lungo perché il confessore fulvio testi gli disse che proprio non era cosa di pubblicare queste versi per no se non voleva finire sul rogo anche lui e in questa satira contro la corte di roma a un certo punto si parla anche dell'apollo e dafne e che cosa dice fulvio testi si rivolge direttamente a bernini o di natura emulator felice bernino alla cui mente alla cui destra dar vita e moto a fredda salce al pestra e creare nuova gente in terra lice bernini che con bellissimi versi viene paragonato a un dio che ha la possibilità di creare una nuova umanità tratta dai marmi perché spirante in vivo sasso a roma a mostrare a pollo e la beltà fugace che abbarbicando al suolo il piettenace di fronda similante il capo in chioma perché hai voluto rappresentare da pollo e dafne nel momento in cui dafne si trasforma in alloro per sfuggire al desiderio di a pollo fa che libero il vetro e poste larmi oziose fra l'erba ad onsi muora a citerea nel seno e fiano allora vidi in tuo paragone di figlia e marmi se vuoi avere successo gli dice fulvio testi devi rappresentare qualcosa di molto più spinto devi rappresentare adone che muore fra le braccia di venere e allora sì che i tuoi marmi saranno considerati molto più importanti addirittura di quelli di fidia come topico rappresentante della scultura antica la cosa è divertente perché se la pollo e dafne era stato salvato dal dai versi di maffèo barbeini interpretato in chiave morale perché a fulvio testi si rivolge così a lui ci crede veramente davvero la pollo e dafne viene considerato un'opera così pia così diciamo così morale apparentemente sì apparentemente testi accetta la moralizzazione del gruppo di villa borghese ma dobbiamo prendere alla lettera questi versi o essendo destinati alla pubblicazione è un messaggio in qualche modo messaggio cifrato testi apparteneva alla più stretta cerchia dei barberini e di maffeo e di gian lorenzo berlini stesso quando parla della pollo e dafne e nel carteggio privato dice invece che la pollo e dafne ha avuto uno strepitoso successo di il dice quel famosissimo scultore che ha fatto la stato del papa e la dafne che nella vigna di borghese un capolavoro del nostro secolo allora se testi dice a bermini che la sua il suo gruppo non ha avuto successo perché è troppo casto e poi nel linguaggio privato nel carteggio privato nelle comunicazioni intime dice che invece ha avuto uno strepitoso successo che cosa è la verità la verità è che testi insinua che il gruppo di bermini in realtà non abbia nulla di morale che quel velo dei versi latini di maffeo non fosse bastato a rendere morale un gruppo invece molto spinto molto licenzioso che aveva successo proprio perché licenzioso dunque la satira contro la roma è anche una satira contro per di fatto e si dice quanta ipocrisia amate questi gruppi di donne nude di amori divini e poi li rivestite anche di una velo morale dobbiamo soffermarci su un punto che cosa consiglia testi a berlini di rappresentare adone questo non è un consiglio del tutto casuale nel 1623 cioè pochi mesi dopo la visita dei cardinali allo studio di berlini esce l'adone di giovan battista marino cioè il poema più importante non solo del seicento italiano ma probabilmente del seicento europeo e all'inizio dell'adone nel primo canto la decima ottava dice una cosa che ci viene molto comoda molto utile per interpretare rapolo e dafne dice marino ombreggia il vero parnaso e non rivela gli alti misteri ai semplici profani che cosa vuol dire prova a suggerire che ladone sia un poema a chiave cioè è un poema in tutto costruito sul desiderio sensuale sul sull'erotismo ma guardate che c'è in realtà un significato nascosto che i semplici profani non capiscono con scorza mentita a sconde cela quasi dentro un rozzo sileno cilè celesti arcani però dal vel che tesser la mia tela in molli versi e favolosi e vani questo senso verace altri raccoglia allora invito gli invito i lettori più intelligenti a non soffermarsi la descrizione sterminata del piacere ma a andare oltre e scoprire che in realtà c'è un significato morale e qual è smoderato piacere termina in doglia un piacere che non si moderi un piacere smoderato finisce per produrre dolore che è esattamente il significato dei versi di maffia barberini chi insegue il piacere alla fine si trova solo l'amarezza dell'alloro la cosa è molto interessante perché il poema di marino è un poema che è un manifesto modernistico nel decimo canto marino che vedete alla vostra destra e non già galileo lo chiama un colombo del cielo come colombo scoperto l'america così galileo ha scoperto nel cielo nuove cose e se ci pensate nel 1623 proprio in questi anni in questo anno cruciale dove avviene l'incontro con i cardinali nello studio maffia barberini e che è diventato nel frattempo urbano ottavo il papa ha in mano nelle sue mani il destino dei tre più grandi italiani del seicento già lorenzo bernini con questa statua pericolosa ma giovanna attista marino con questo poema terribilmente erotico e dunque pericoloso e poi il più pericoloso di tutti per ragioni che non devo spiegarmi cosa succede marino cade per primo il 9 novembre del 1623 viene condannato all'infamia della biura pubblica nella chiesa domenicana di santa maria sopra minerva gli viene imposto l'abitino del penitente la candela in mano e viene umiliato lui che era stato il poeta della corte di francia il poeta più strepitosamente alla moda di europa diventa viene trattato come un eretico qualunque e perdonato si ritira nella sua napoli dove sostanzialmente fuori dal mondo sconfitto muore nel 1625 quanto a galileo la condanna di galileo arriverà soltanto dopo nel 1633 è interessante che quando si fa il processo a galileo il secondo dei capi d'accusa dell'inquisizione del santo uffizio contro galileo contro il dialogo dei massimi sistemi di cui vedete il frontespizio era quello cito le parole dell'inquisizione di aver posto la prefazione al libro con un carattere distinto cioè con un carattere tipograficamente scritto piccolo e resala inutile come alienata dal corpo dell'opera e aver posto la medicina del fine in bocca di uno sciocco galileo aveva scritto una sorta di avvertenza che non aveva nessuna intenzione di contestare delle verità di fede e poi aveva affidato diciamo le posizioni ortodosse a quella figura di sciocco simplicio sciocco fin dal nome sempliciotto che gli costerà molto caro perché urbano ottavo mafio barberini l'amico di berlini si accorgerà subito che semplicio è lui è un suo cripto ritratto si offenderà a morte e questo avrà un qualche peso nella decisione di condannarlo e se ci pensate questa accusa di aver fatto un nel caso di marino un grande poema erotico con pochi versi che invitavano a interpretarlo diversamente nel caso di galileo un'opera liberissima con pochi con poche parole scritte in un altro carattere che dicono che non c'era nulla contro la fede sono la stessa cosa che si poteva dire a berlini che aveva fatto un gruppo di marmo strepitosamente erotico poi affidando a poche parole in latino che nessuno leggeva scritte sul piedistallo la sua moralizzazione il papa sommerge marino sommerge galileo ma salva berlini non c'è una condanna formale di berlini berlini però a biure qualche modo perché la polle d'afne e la sua ultima opera erotica la sua ultima opera esplicitamente profana perché subito dopo si passa a questo al davide e davide è un'opera sacra naturalmente e fulvio testi aveva dei aveva lamentato che vedeva immagini di venere immagini di adone ma non sento tromba guerriere non sento una poesia di guerra non sento la poesia civile una poesia militare il davide è tutto questo non solo ma davide è egli stesso un poeta sacro è il poeta dei salmi berlini la raffigura con la cetra ai piedi come una dichiarazione di abbiura d'ora in poi parlerò soltanto di opere sacre di temi sacri e lascerò perdere la poesia dei sensi del corpo lascerò perdere tutto questo lascerò perdere da d'afne e tutto questo dunque una storia lieto fine non esattamente il prezzo da pagare fu altissimo perché in qualche modo la polle d'afne non finisce all'indice è vero ma rappresenta in qualche modo la fine l'auto amputazione l'auto censura di tutto un bernini sensuale un bernini della libertà del corpo della libertà dei sensi un bernini che usiamo delle parole che benedetto croce dedica a marino a marino un bernini che seppe accendere e disfrenare sfrenare togliere il freno agli animi dei giovani amanti di poesia come pochi seppero in ogni tempo quel bernini lì apparentemente è perduto per sempre ma naturalmente io credo che come un fiume carsico ma rumoroso che scorre sotto ma si sente questa libertà di bernini continui a scorrere in tutte le sue opere per esempio nella santa teresa di cui si può ben dire quello che si era detto dell'apollo e daphne che sembra troppo libera e indecente sotto il saio carmelitano di teresa respira un corpo è un corpo evidentemente abbandonato al piacere stand al quando vede quest'opera disse se questo è l'amor di dio so bene di che si tratta alludendo a un amore molto molto carnale questa è una foto di davide la chapelle un fotografo contemporaneo è un ritratto di angelina jolie piuttosto inequivocabile che ha chiamato l'estasi di santa teresa questo fotografo vede in una scultura sacra del seicento il barocco abbiamo detto dei preti dei gesuiti in realtà una radice per un'opera molto molto vicina alla corrente sensibilità dei nostri giorni esistono però delle prove che non è soltanto stato soltanto la chapelle a accorgersi di tutto questo e le parole che leggete accanto a un dettaglio da santa teresa sono parole di uno scrittore del seicento un pamphlet anti berniano che circolava manoscritto in tante copie che scrive così non sarà strano che scambiasse una virtù con l'altra chi nel formare la santa teresa della vittoria tirò quella vergine purissima santa teresa carmelitana in terra a fare una venere non solo prostrata ma prostituita allora qual è l'accusa che la santa teresa non ha nulla di sacro ma sembra una prostituta ora questa accusa ha un precedente molti di voi erano immediatamente identificato sono le accuse che erano state fatte a caravaggio quando caravaggio dipinge la morte della vergine e siamo molti anni prima all'inizio del seicento viene rifiutata perché viene accusato caravaggio di aver dipinto una prostituta e giulio mancini biografo di caravaggio e amico di bernini di mafeo barberini scrive alcuni pittori moderni fanno male quali per descrivere una vergine nostra donna la madonna vanno ritraendo qualche meretrice sozza degli degli ortacci un posto di roma dove ci si prostituiva come faceva michelangelo da caravaggio e fece nel transito nella morte di nostra donna in quel quadro della madonna della scala la chiesa dei carmelitani di roma che la rifiutarono è il motivo per cui poi fu comprato da duca di mantova e oggi si trova al numero che per quel rispetto quei buoni padri non lo volsero le sue pitture furono sempre lascive perché erano sempre ritratti di qualche sua bagascia le madonne di di caravaggio accusate di rappresentare delle prostitute è impressionante che la stessa cosa venga detta della carità sulla tomba di urbano ottavo e la tomba di mafeo barberini l'autore del listico che abbiamo visto cosa si volle vedere nella carità di scolpita nel marmo da bernini un ritratto di costanza bonarelli l'amante di giallo renzo che era sposata con un altro uomo una storia tempestosissima e l'accusa fu che nella carità si era rappresentata la costanza era questo lo scambio di virtù concettismo barocco dovevi farmi la virtù della carità mai fatto la virtù della costanza ma in realtà era l'argomento del nome di battesimo di costanza bonarelli questo busto strepitoso che sta al museo del bargello a firenze e questo autore dice sempre lascio da banda non voglio nemmeno parlare della sua costanza trasformata in carità non so se con tanti figli o padri alle poppe le poppe cioè se non si vedeva fino a che poi non fu fatto quel panno alla fine del seicento di bronzo che nasconde il seno della carità dunque un bernini censurato dunque un bernini che paga lo stesso prezzo che ha pagato caravaggio ma che essendo stato molto più abile a navigare nelle pieghe della curia ha lasciato questa sua sensualità questa sua carnalità sottotraccia a secondare il potere senza farsi colpire dal potere e questo è in fondo l'esperienza di giallorenzo bernini i capelli di dafne quei capelli che giallorenzo vanta ai piedi del retto del re sole quando parla nel francia sono i capelli cantati da ovidio e dalle metamorfosi sparsi sul collo non pettinati spinti indietro dal soffio del vento così che la bellezza era cresciuta da quella fuga sono parole di ovidio ma quando li vediamo scolpiti nel marmo questo marmo che bernini rende come la cera essi non sono più una formula poetica non sono solo e non sono solo il mobile vivissimo oggetto di un desiderio maschile il desiderio di apollo quei capelli che ovidio vuole e sono sue parole sine legge senza regola perché tutti mossi sono anche la cifra della libertà di bernini una libertà senza legge bernini non abbiura ma a questa libertà non rinuncia mai ed è proprio per questo proprio leggendo quest'opera con occhi nuovi mettendolo insieme alla donna di marino ma anche alla molto più sfortunata avventura di galileo che possiamo capire come in realtà non esista un'antinomia fra caravaggio e bernini siamo abituati dai nostri manuali a tenerli distinti il caravaggio sconfitto e apocalittico e moderno è un bernini di successo integrato e in fondo sterile rispetto all'arte moderna ebbene io credo che leggendo le cose più da vicino capiremo come il barocco anche il barocco berniniano sia le radici del moderno e come caravaggio e bernini siano in fondo due strade molto più vicine di quanto non si possa credere grazie e ora risponderò le vostre domande si può stabilire io comincio a leggere le vostre domande e provo a rispondere ad alcune di esse si può stabilire un confronto tra la testa di medusa di caravaggio e l'urro di muc allora si può dire che probabilmente muc non ci sarebbe stato così come c'è stato senza caravaggio cioè che la libertà di caravaggio di cui abbiamo parlato sia una libertà che viene messa a frutto dai pittori della modernità non si può credo parlare di una fonte diretta sappiamo che le fonti di muc sono impressionanti sono probabilmente alcuni corpi mummificati sono uno studio diciamo così particolarmente doloroso sul corpo umano reso espressivo nella attraverso la morte e dunque io direi muc fa parte di quella di quell'arte che sgorga in fondo della radice caravaggiosca ma non si può pensare a una fonte diretta anche perché in quel momento la fortuna personale di caravaggio ancora non era quella di oggi in che modo caravaggio sarebbe venuto al mondo per distruggere la pittura si fa riferimento all'uso della luce prima che dei contorni chiari e delineati ma io non credo che ci sia un riferimento tecnico credo che piuttosto si faccia riferimento alla libertà di caravaggio alla sua non ortodossia a quello che abbiamo appena visto un caravaggio che viene rifiutato un caravaggio che riesce a distinguere e questo sarà un grave problema potremmo dire la funzione dell'opera dalla sua dal suo valore estetico che cosa voglio dire nel l'opera di caravaggio la morte della vergine che viene rifiutata dai padri carmelitani ma che viene acquistata immediatamente la luca di mantova grazie a un agente d'eccezione rubens peter paolo rubens che si trova a roma in quel momento vediamo una scissione un quadro che non funziona sull'altare che non funziona come opera sacra a cui non si possono accendere le candele di fronte o pregare però che invece funziona benissimo in una galleria allora noi stiamo dalla parte di caravaggio non c'è dubbio tifiamo per lui per la libertà dell'artista e però bisogna dire che questa libertà dell'artista dalla committenza e questa scissione fra funzione e valore estetico rischia di condannare l'arte ad essere potremmo dire una splendida super fluidà sono parole di edgar vindo grande storico dell'arte cioè che persa la funzione religiosa la funzione civile la funzione politica e quando rimane solo quella estetica l'arte diventa più fragile se oggi chiude un museo di arte contemporanea in una capitale europea se ne accorgono sostanzialmente coloro che lavorano in quel museo ma non ci sono certo dimostrazioni per strada se nel seicento romano si fosse chiusa una chiesa ci sarebbe stata una mezza rivolta e dunque un caravaggio venuto al mondo per distruggere la pittura è un giudizio io credo molto profondo molto meditato che parla di una svolta che veniva dai contemporanei oscuramente sentita come una svolta veramente capitale un'arte che poteva rompere il suo legame addirittura con la sua funzione religiosa con una funzione civile sociale verso una liberazione i cui orizzonti erano sentiti come carichi di pericolo e noi vediamo la storia dall'altra parte potremmo dire l'arte di bernini e da considerarsi cinetica come l'arte moderna beh certo dire di sì una prova di questo è molto affascinante è un disegno in cui umberto boccioni nel 1913 studia la collo e daphne di bernini alla galleria borghese proprio nel momento in cui il manifesto i futuristi e i fiancheggiatori del futurismo penso al giovane longhi dicono che in fondo bernini è un ramo morto della storia dell'arte un artista con le sue con le sue antenne così sensibili come boccioni va alla borghese e si copia quella che in fondo il listico di mafio barberini chiamava una forma che fugge e dunque la scultura di boccioni è esattamente questo rappresentare nelle tre dimensioni una forma che si muove fino a sfuggire dalla dall'occhio dello spettatore dunque sì la risposta è sì allora l'opera più recente che che lei cioè che ho mostrato è ghernica e dopo di allora la distruzione del figurativo e poi del pittorico e poi della distruzione arte non arte hanno spento ogni eco di bernini e caravaggio no io credo di no per le ragioni che ho provato a dire e cioè il punto vero io credo è la funzione dell'arte io per esempio sono molto convinto che la street art oggi sia un grande banco di prova un'arte pubblica un'arte addirittura spesso anonima a volte un'arte collettiva in cui paradossalmente si arriva si prova a riannodare il filo prima di caravaggio cioè ridare all'arte una sua funzione ma conservando la libertà e anche il potere diciamo così di provocazione il potere di mettere in crisi alle coscienze che l'arte ha conquistato con caravaggio io credo che oggi ghernica verrebbe dipinta sul muro e verrebbe dipinta condizioni estreme credo che le le pitture di bank si sul grande muro che separa palestinesi e ebrei nella per esempio betlemme sia sia qualcosa che ha a che fare direttamente con la lezione di picasso e prima con quella di caravaggio dunque l'estasi di santa teresa come fu recepita dal mondo religioso me ho provato a parlare della reazione di un contemporaneo fu recepita con un certo imbarazzo l'arte di bernini viene sentita come un'arte problematica naturalmente bernini e non aveva nulla di reti con quell'opera si era letto molto bene l'istoria de su vida di santa teresa in cui santa teresa descrive la transverberazione cioè il fatto che venga che le sue viscere vengono penetrate da una freccia infuocata ma il problema era proprio lì perché le parole di santa teresa avevano sconcertato i suoi confessori maschi naturalmente perché erano opere che parlavano linguaggio erotico d'altra parte il matrimonio mistico con il cristo tutta la una grande parte della delle parole della mistica femminile in età moderna sono parole che hanno un tono scopertamente erotico bernini cosa faceva traduceva tutto questo in figure ora un conto è vedere una cosa leggere una cosa un conto è vederla questo diceva già leonardo fate un retratto di un amata e scrivete il nome dell'amata e vedrete dove andrà lo sguardo dell'amante naturalmente all'immagine e non al nome dunque fu una reazione che diciamo accanto all'indubbia approvazione per la qualità artistica teneva come dire latente una una paura un timore naturalmente caravaggio viene sconfitto e paga un prezzo molto alto perché slatentizza porta in superficie tutto questo mentre bernini è abilissimo a tenerlo sotto traccia ho parlato di un fiume carsico il problema è che i rumori del fiume per usare questa metafora si sentono anche dalla superficie alla luce di questa ricostruzione quale ruolo andrebbe a ricoprire nella storia dell'arte francesco borromini tramandato come figura antitetica sia caratterialmente che espressivamente a bernini beh diciamo nella tradizione borromini viene in qualche modo equipalato a caravaggio cioè un artista apocalittico un artista non integrato un artista che paga un prezzo altissimo il suicidio di borromini che si getta sulla sua spada è una pagina terribile e anche meravigliosamente alta moralmente alte della storia dell'arte bernini diceva una cosa terribile contro borromini perché bernini aveva paura che borromini gli fosse in qualche modo addebitato cioè bernini vedeva come la figura di michelangelo veniva nel 600 guardata con molto sospetto non tanto per le sue opere quanto per la licenza che aveva dato alle generazioni successive l'architettura manierista e la stessa architettura barocca veniva sentita come una conseguenza di michelangelo giustamente della licenza che basari aveva esaltato e michelangelo cioè la libertà e aveva paura che in un futuro si sarebbe detto che borromini era una conseguenza di bernini e diceva è meglio essere un cattivo cattolico che un buon eretico una cosa terribile cioè che era meglio essere un ortodosso in architettura magari mediocre che invece essere un eccellente eretico la parola eretico per borromini la usa bernini e la metafora è religiosa ed è impressionante ed è carica di conseguenze dunque un ruolo che diciamo sicuramente più vicino a caravaggio nella misura in cui esplicita la sua originalità pericolosa anche se su altro piano non c'è un problema sensuale ma c'è un problema di ortodossia architettonica e di libertà dell'artista dall'altra parte bernini che come dire condivide le stesse pulsioni male elabora in un modo molto più abile tanto da conservarsi allora giorni fa su un quotidiano veniva commentato l'arte di lucio fontana richiamando le sue radici squisitamente barocche in quale senso dovremmo intendere questo ascendente allora diciamo bisogna sempre stare attenti in questi paragoni bisogna sempre farli con grano salis e potendoli argomentare cioè se io dico che mané guarda velasquez lo posso provare con delle lettere oltre che con l'evidenza della sua arte che fontana diciamo volesse fare un marte barocca o neobarocca bisognerebbe intendersi si può intendere in vari modi diciamo che la si può intendere con l'importanza del concetto e del gesto dell'artista l'arte barocca è un'arte in cui il concetto queste sono parole di bernini è importantissimo è un'arte in cui il contenuto mentale è fondamentale quanto almeno quanto quello sensoriale è chiaro che in fontana diciamo le due cose convivono vorrei dire il limite sul confine cioè il gesto che taglia le tele se a questo che ci si soprattutto si allude è un gesto che naturalmente dà valore alla materia ma per negarla e tutto viene spostato sul piano concettuale si potrebbe ragionare sul fatto che bernini è uno dei primi artisti che sente il bisogno di accompagnare le sue opere delle riflessioni scritte dei testi non basta vedere bisogna anche sapere che cosa intendeva l'artista l'artista che spiega l'opera che la concettualizza è un po in effetti un'invenzione barocca secondo lei tanti autoritratti celati o meno di caravaggio potrebbero essere utilizzate in classe sulla tematica multidisciplinare dell'identità penso proprio di sì bisogna farlo naturalmente anche qua sapendo rendendo esplicito che un conto è caravaggio storico e un conto è ciò che noi sentiamo di caravaggio e che però le due cose come dire vanno tenute in tensione non dobbiamo scegliere dobbiamo ricostruire con le armi della filologia della storia il caravaggio del seicento il caravaggio di caravaggio ma poi c'è anche il caravaggio nostro diciamo il caravaggio che viene dopo froide il caravaggio che viene dopo fuco e tenere in tensione questi due caravaggio è davvero la sfida più appassionante d'altra parte senza un'adesione nostra senza come dire sottolineare quello che caravaggio e vuole dire al nostro tempo non avremmo nessuna desiderio per riscoprire il caravaggio storico nel fondo e dunque sì si può pensare a un caravaggio anarchico come du champ allora beh insomma forse diciamo in du champ è fortissima la volontà di provocare il famoso rinatoio era era una provocazione fatta che poi è stata presa sul serio in caravaggio c'è un portato biografico di dolore e di messa in gioco di se stesso della propria vita che in du champ non c'è e dunque diciamo bisogna credo andarci cauti ma se si intende dire che diciamo la scissione fra forma e significato fra funzione arte è una scissione che ha le sue radici in caravaggio allora sì allora si può dire la conoscenza del lorenzo lotta di verga non può aver influito sulla formazione caravaggio sì assolutamente nel nostro manuale questo viene detto molto esplicitamente è la grande idea di longhi che caravaggio sia un pittore lombardo che affonda le sue radici nella sua terra tra lombardia e veneto bergamo terra lombarda ma in territorio della serenissima lotto moretto savoldo moroni sono i nomi dei grandi pittori del secondo cinquecento del primo cinquecento che alimentano diciamo così la pianta caravaggesca scusate mi sono perso la doppia morale io non temo di non riuscire a rispondere a tutte ma insomma finché posso vado avanti la doppia morale il decoro e la rappresentazione della lussuria sfrenata e atteggiamento prudente e intelligente l'artista era consapevole che storia morale come i gesuiti o semplicemente la subiva dipende quale artista bernini nera consapevole sicuramente ci giocava altri artisti cadono vittima della propria non consapevolezza dipende da quale committente e dipende da quale arte c'era un'arte che si teneva coperta da delle cortine e che serviva che aveva una funzione erotica al limite pornografica ma poi c'è invece l'arte sacra dipende da quale artista da quale arte naturalmente c'è una scalatura una storia dell'arte erotica che sia seria che non dubbia naturalmente a facili entusiasmi per dire così è una storia che per i 600 in parte deve essere ancora scritta la mostra di mappe del torpa a napoli ha visto da parte del curatore la volontà di paragonare i suoi soggetti e l'arte del passato cosa ne pensa ma anche qua e penso che sia un terreno minato il che non vuol dire che non ci sarebbe a camminare ma sapendo che si può saltare in aria generalmente quando lo fanno gli artisti stessi è un po pericoloso perché c'è una volontà mappe troppo è un grandissimo artista ma c'è una volontà di legittimazione di auto legittimazione insomma il rischio dell'esito nani sulle spalle dei giganti esiste io credo che sia poi diciamo una decantazione storica cioè che i giudizi su mappe troppo potremmo dare fra un po e anche capire meglio i suoi innessi col passato in generale gli accostamenti materiali rischiano di essere pericolosi cioè se una mostra di mappe troppo chiedesse in prestito un caravaggio il rischio di strumentalizzazione è alta il che non vuol dire che non ci sia un nesso bisogna saperlo diciamo così delineare in totale libertà c'è un qualche pittore dell'otto novecento che può essere considerato un diretto discendente dell'arte dello stile di caravaggio beh courbet per esempio courbet è un artista la cui mostra alla biennale di venezia nel 1910 risveglia in roberto longhi aveva vent'anni il desiderio di studiare caravaggio per capire come bisognava resuscitare caravaggio dunque courbet e non solo lui ma certamente quello è un esempio concreto diciamo di una discendenza diretta dall'arte di caravaggio e direi anche francis bacon attraverso attraverso velasquez diciamo è un'eredità che va intesa non in un senso diretto feticistico è un'erità larga in cui alcuni artisti si riconoscono più direttamente altri meno si può dire che caravaggio demolisce la pittura nella misura in cui svela l'inganno della pittura il suo essere una messa in scena ad esempio il macchino malato nel bacco sì credo questa sia una bellissima definizione ringrazio chi l'ha chi l'ha fatta e così caravaggio svela lo studio e dunque svelando lo studio non abbiamo visto svela la finzione della pittura e il ruolo dell'artista e dunque in qualche modo smitizza demitizza la pittura e per certi versi crea un mito alternativo in cui l'artista grande parte dietro a marino c'è la scienza nascente ad esempio l'uso di tutti i sensi per conoscere la realtà forse vuole vedere anche nell'arte di bernini qualche elemento che richiami a questo sì credo proprio sì si può vedere l'importante è come dire anche qua quando si fanno dei paragoni tra contemporanei cercare di secondo me dico di dare un corpo storico cioè appunto come ho provato a fare non so se riuscendo i versi dell'adone e l'epigrafe che hanno esattamente quasi le stesse parole certamente quando si prende quella frase di croce in cui si dice che marino scioglie all'ardore poetico dei giovani grazie alla sua sensualità è una frase che vale esattamente per bernini a quale artista dell'arte astrattista possiamo paragonare le opere del barocco beh insomma e qui bisognerebbe rifletterci sono accostamenti pericolosi e alcuni casi possono essere possono essere intelligenti la cattedra di san pietro una delle opere che abbiamo visto che apparentemente la cosa più barocca e più datata di bernini viene letta da briganti e questo del manuale si dice come un paesaggio di nuvole contro il sole cioè leggere un'opera così papale così densa di significato sul piano formale come un'opera impressionista fino all'astrazione fino al monè delle cattedrali che si disfano nel sole fino a arrivare a pollock non per caso diciamo pollock o rotco un'altra forma di astratto sono i momenti che del novecento in cui monè viene riletto la quell'impressionismo viene riletto allora sì si può tracciare un filo bisognerebbe sceglierla con molta attenzione ma la catra e san pietro accanto a un'opera stratta se scelta bene potrebbe essere un confronto molto rivelatore se sia caravaggio che bernini scusate se sia caravaggio che bernini erano così espressi verso la figura femminile ed uno viene criticato tanto e l'altro riceve sempre tante commissioni differenza sta solo nel fatto che uno è poco protetto e l'altro molto protetto dalla chiesa sta nel fatto che che bernini che l'esplicitezza del bernini giovane cade bernini abbiura e deve nascondere come fa in teresa sotto la superficie se bernini avesse continuato a essere esplicito quanto caravaggio avrebbe fatto probabilmente la stessa fine dunque non si tratta di raccomandazioni se questo si intendeva ma si tratta di una capacità di dissimulare bernini accetta di dissimulare caravaggio no alle performance e installazioni moderne potrebbero trovare una radice nella teatralità di bernini o in generale barocca bernini da un grande uomo di teatro è un uomo di teatro spettacolare di cui conosciamo poco ma quel poco conosciamo è pazzesco bernini che finge l'inondazione sul palcoscenico le prime file del teatro che scappano un po come alle proiezioni del film con il treno che sembra entrare nella sala si bernini è un grande uomo di teatro ne sappiamo poco ma certamente si può per caravaggio il sacro nei margini della società ma anche nello sporco nel triviale direi direi che troppo dire che c'è il sacro nello sporco diciamo quello sporco viene rappresentato la mela bacata viene rappresentato lo sporco è nella realtà e la pittura della realtà non può scegliere non fa elezione non fa selezione in questo senso sì cosa sia il sacro per caravaggio è complicato da dirsi io non sono sicuro di averlo capito certamente c'è un sacro direi che tendenzialmente corrisponde coincide con l'umano l'umano è il sacro qual è il titolo del manuale da cui vengono tratti questi argomenti e beh insomma il manuale affronta temi più semplici naturalmente comunque il titolo è arte una storia naturale civile esce con il marchio mondadori educa esce meinaudi scuola così come michelangelo è stato censurato successivamente la realizzazione degli affeschi della sestina anche le opere del bernino rischiato subire la stessa fine in parte si l'abbiamo visto ci sono altri casi di una censura fatta nella stessa vita di bernini bernini qualche modo viene 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 rimosso allora la lezione è le ultime la lezione è una giornata scusate la lezione scusatemi allora arriva anche a quella l'amo ma ne avevo saltate alcune la morte di mara le deposizione hanno punti e la deposizione caravaggio hanno punti in comune si è manuale per c'è una via di fuga cioè una scheda diciamo non svelo troppe carte insomma scritta da salvatore settis direttamente in cui sul braccio della morte questo braccio pendente che collega caravaggio david ma prima raffaello e i sarcopogli antichi quali sono le motivazioni profonde per le quali l'artista stravolge canoni dell'arte a lui contemporanea bisogna capire se lo fa apposta se lo fa se lo sei evocato a farlo diciamo è proprio nel seicento che nasce l'idea che l'arte debba essere nuova il concetto di novità è un concetto seicentesco bastò al cardinale borghese l'essere nipote di paolo quinto per essere protetto beh sì c'era il tempo di alludere questo il cardinale borghese era omosessuale e infatti quando il cardinale francese censura la daphne i cardinali romani ridono e pensano che semmai fosse la pollo essere preoccupante era un uomo libero a suo modo tenne la promozione cardinale di uno dei suoi più amati uomini è un cardinale che per certi versi è un cardinale che gode della libertà dei cardinali del primo rinascimento cioè si un francese a roma capiva che in fondo il concilio di trento era passato in vano e che l'elite romana cercava di vivere come al tempo di l'aldeone decimo e di giulio secondo l'esplicita espressione della sensualità in entrambi gli artisti può dirsi un tentativo di liberarsi dalle strette della controriforma direi proprio di sì ecco la lezione un aggiornamento per noi docenti a scuola non è una lezione fattibile certo non voleva essere questo cosa ne pensa della povertà di cultura religiosa in cui dobbiamo sopperire quando spieghiamo l'arte religiosa il barocco complica una questione religiosa di cui ragazzi non conoscono le basi ci sono piste di lavoro su questo problema di didattica della storia dell'arte allora nel manuale cerchiamo di dare gli strumenti in questo senso ed è proprio vero io mi trovo all'università a fare delle lezioni di autoironia dico di catechismo come si fa a spiegare una immacolata concezione se ormai non dico gli studenti ma il 90 per cento degli italiani non sanno che cos'è l'immacolata con cos'è il dogma dell'immacolata concezione che vuol dire quasi tutti pensano che sia la concezione di gesù invece naturalmente la concezione della vergine è una cosa vera io credo che ci siano tanti spunti possibili e cioè che nella lettura completa di un'opera d'arte debba entrare anche una come dire un tentativo di spiegazione dei significati che generazioni di italiani hanno visto in quell'opera che noi non vediamo più naturalmente senza trasformare il corso di storia dell'arte in un corso di catechismo ma credo che questo sia straordinariamente interessante e se l'insegnamento di religione in italia non fosse confessionale ma fosse storico c'è da ci darebbe una mano probabilmente secondo lei c'è un'influenza tra gian bologna e bernini allora sì ma non c'è dubbio io credo che il ratto di proserpina sia stato fondamentale per il giovane bernini credo anche però che bernini cambi completamente il modo di far vedere le opere d'arte e le opere di gian bologna bisogna girare intorno le opere di bernini erano fatte per essere viste proprio come la santa teresa contro un muro lì c'è la cappella e quindi è inchiodata al muro ma anche da pollo e daphne andava visto appoggiata a una parete perché bernini lavora con dei grandi quadri i suoi modelli sono per l'appunto caravaggio e i carracci e rubens che nessuno vede tra caravaggio e pasolini ma ce n'è uno strettissimo perché pasolini frequenta bologna la lezione di roberto longhi e il neorealismo ha una radice nel realismo seicentesco analismo caravaggesco dato qualche tempo fa una bellissima tesi che è stata svolta molto bene dalla bravissima ragazza a napoli proprio su caravaggio in pasolini ci sono moltissimi espliciti riferimenti e poi c'è una possibilità di fare dei confronti strepitosi tra la filmografia di pasolini e i quali di caravaggio ultima domanda era più spettacolare roma barocco la francia di versaia buona domanda credo la roma barocca erano spettacolari in modi diversi quando il re sole vuole versaio vuole un'opera che sia però classica cioè per luigi deve essere chiaro che il suo modello è la roma imperiale ancora una volta questo nel manuale cerco di spiegarlo e invece la roma di di bernini era una roma più colorata e la roma piena di fuochi d'artificio di giochi d'acqua non così geometrici come quelli del re sole erano spettacolari in modi diversi quella di bernini era probabilmente più viva più senza regola e un processo per questo che a me sta anche più simpatiche grazie mille dell'attenzione spero che ci ritroveremo presto grazie